Il Comune di Gromo ha ottenuto la possibilità di utilizzare 240.000 euro per opere pubbliche, una possibilità che è stata concessa proprio in questi giorni dal Governo. Ecco, come verranno spesi questi soldi? Allora, sì, esatto, innanzitutto ringrazio per la possibilità di dire, di dare la notizia appunto, che il Comune di Gromo ha ottenuto questi spazi finanziari, quindi la possibilità di poter fare degli investimenti. Quindi ricordiamo che non sono soldi che ci sono stati regalati a fondo perduto, sono comunque soldi del bilancio comunale e il Ministero ha individuato alcuni comuni, fa piacere vedere che ci sono anche altri comuni della Valle, che hanno i conti in ordine, per cui sono stati individuati questi comuni, al quale è stata data la possibilità di spendere i soldi, che quindi è già un ottimo obiettivo. Al Comune di Gromo sono stati concessi spazi finanziari per 240.000 euro, che erano esattamente quelli che avevano richiesto, quindi tutto quello che potevamo ottenere. Il Comune di Gromo ha deciso di investirli sul collegamento ciclabile, sul potenziamento del collegamento ciclabile, di cui appunto si parla molto. È un collegamento che però serve anche come collegamento interno del Comune. Infatti stiamo parlando di un tratto di marcia a piedi che non esiste, verrà costruito questo collegamento ciclabile che parte dalla zona dei carabinieri forestali per arrivare fino al piazzale del Borgo e comunque dove c'è l'ingresso del piazzale del Borgo, che è anche quello che adesso stiamo guardando per rivederlo, quindi migliorare anche la viabilità dell'accesso del parcheggio del Borgo. Quindi è un grande investimento, di cui di questi 240.200 sono destinati a quest'opera, quindi la gran parte per arrivare ad una soluzione in cui noi ci crediamo sicuramente. Chiaramente è importante sia dal punto di vista turistico che anche proprio dal punto di vista della sicurezza, perché tutti quelli che ad oggi camminano lungo la provinciale, per cui c'è un problema anche di sicurezza. Ecco, ci tengo a dire che chiaramente non riusciamo con questi soldi a realizzare il ponte che passa sul fiume Goglio, per cui chiaramente faremo tutto quello che è possibile come opere propedeutiche per arrivare un domani a questa soluzione, però chiaramente l'importo è molto alto. Chiederemo ovviamente adesso con la provincia, con gli interlocutori con cui si sta parlando, per completare il famoso tratto da Gromo fino a Villadogna, di inserirlo nella realizzazione che verrà fatta successivamente. Però pensiamo che comunque questo intervento sia molto importante, metta un grosso punto fermo e sicuramente migliorerà la sicurezza e la percorrenza del tratto. Gli altri 40.000 euro verranno invece destinati per quello che è il reticolo idrico minore. Abbiamo chiesto un altro finanziamento, ancora 200.000 euro a fondo perduto, a Regione Lombardia, dovrebbero uscire verso il mese di aprile i risultati e nel bando vengono richiesti 40.000 euro per la spesa per il comune, quindi noi abbiamo chiesto anche questo finanziamento, per cui sarebbe un'opera interamente finanziata con altri fondi. Diversamente se non dovessimo ottenere il finanziamento, comunque siamo intenzionati a spendere quei 40.000 euro lì per la sistemazione del reticolo idrico, verranno comunque destinati a quello, per cui la previsione è quella di un'opera più grande, vediamo se ci arrivano anche questi fondi, se no diversamente comunque li utilizzeremo per un'opera chiaramente più piccola e speriamo comunque che incida su quello che è la sicurezza del nostro territorio.